E' tanta voglia per tutti ragazzi, io sono Ferrix e siamo ancora qui con un team build Questa volta come promesso abbiamo strasuperato i 3000 like nell'episodio precedente e vi ringrazio tantissimo Oggi quindi vi porto la squadra più forte ed economica della Barclays Premier League ragazzi Una cosa ci tengo a precisare, i prezzi dovete sapere che sono estremamente variabili su FIFA Quindi l'altra volta è stata un po' di incomprensione, comunque sia i prezzi che vi dirò sono ad oggi 20 ottobre 2015 Quindi se voi vedrete questo video, perché magari lo postiamo qualche giorno dopo, e quindi non trovate i prezzi propriamente congruenti a quelli che vi dico io Sappiate che il mercato di FIFA che è impazzito in questi giorni, comunque sia cambia continuamente Ma adesso basta cacchierare e andiamo a vedere subito come fare questa squadra fortissima ed economica sulla Barclays Premier League Innanzitutto il modulo ragazzi, il modulo questa volta anziché il 433 con il COC vi porto il 433 con il CDC Questo qui perché non ci sono COC abbastanza economici, quelli veramente forti iniziano a costare 4000-5000 crediti E quindi non mi pareva il caso di fare una squadra economica un COC che costasse più di tutta la squadra insomma In porta ragazzi, Mignolet, portiere del Liverpool, è veramente molto forte come portiere E non è nulla di eclatante ma è soprattutto molto reattivo, quindi vi farà delle grandissime parate per quanto riguarda i diri anche molto ravvicinati È un po' meno bravo nelle uscite proprio, questo bisogna ammetterlo Mignolet che costa soltanto 1000 crediti Terzino destro ragazzi c'è Neom del Watford Giocatore più sconosciuti, l'altro anno non era stato assolutamente considerato per quanto riguarda FIFA Però quest'anno sta dando un grandissimo contributo e soprattutto è un giocatore che è molto veloce Quindi vi darà pressione in avanti, potrà andare in avanti e spingere Ma soprattutto in difesa ragazzi è rocciosissimo e farà degli diagonali che vi salveranno sempre dai grossi avversari Al costo di 900 crediti Colonna portante della sua squadra, il Newcastle, Mbemba è uno dei difensori secondo me più forti su FIFA 16 ragazzi È una bomba innanzitutto per il motivo molto semplice che è velocissimo 82 di velocità, riesce a tenere testa a tutti gli attaccanti e soprattutto di fisico è veramente molto possente Ragazzi questo qui ha un nome impronunciabile, io quindi ve lo metto a schermo Gilobodi, vabbè avete capito insomma è lui, è una forza della natura anche lui È molto più lento di Mbemba ma è altissimo, è 1,93 ragazzi quindi di testa saranno tutte quante le sue È anche abbastanza veloce, ha un 72 e soprattutto cosa molto più positiva è un mancino naturale Quindi lo potete mettere a sinistra senza nessun tipo di problema e sarà sempre sul suo piede buono Coppia centrale formata da questi due, Mbemba e Giboldi, Giboldi, vabbè avete capito 1000 per 1 quindi con 2000 crediti viverete la coppia centrale A sinistra abbiamo un Ubbabà, no non è vero non è un Babà ma Babà dovrebbe essere la pronuncia Terzino sinistro del Chelsea che sta diciamo soddisfacendo anche Mourinho nella realtà in quanto viene spesso impiegato Ragazzi questo qui è un terzino sinistro che a me piace moltissimo È veloce e soprattutto è bravo anche a difendere quindi riesce a fare tutte e due le fasi Come vedete il rendimento del giocatore è alto per l'attacco, normale per la difesa quindi dipende abbastanza bene Non è altissimo quindi qualche problemina sulle palle alte e nelle diagonali ce le può avere Ma il ragazzi riesce a spingersi e fare dei cross veramente pennellati al bacio per l'attacco E Babà, Babà, Babà vabbè, costa 1300 crediti Come sempre vi ricordo io ho qui tutti i miei schemini perché non mi ricordo a memoria tutti quanti i crediti Arriviamo al cuore del centrocampo ragazzi In mezzo un cdc non di spessore tecnico ma di spessore fisico ragazzi Ci mettiamo Fernando, non è un fulmino di guerra in velocità ragazzi, solo 67 Però è piazzamento, potenza fisica e difesa fisica veramente altissime 81 e 82 per quanto riguarda difesa e fisico ragazzi Di sicuro non passa nessuno su di lui O se ne vanno in velocità oppure li fermerà sempre e comunque Il costo di Fernando tra l'altro è solo 900 crediti Come ogni centrocampo che si rispetti ci deve essere la qualità nei piedi Ma come dico sempre anche la quantità Milner è il giocatore adatto a questa cosa Infatti non è velocissimo ma 83 di passaggio ragazzi E fa veramente dei passaggi pennellati soprattutto sulle fasce Quindi per ripartire in velocità Buon fisico, buon dribbling, diciamo è una via di mezzo Più qualità sicuramente che quantità Ma tanto ci sarà Fernando a fare la sostanza e dare massate sulle caviglie a chiunque se ne voglia andare Milner che lo potete prendere con solo i 1100 crediti L'altro cc ragazzi è un cc che dai tempi di FIFA 13 è una costante nelle squadre della Barclays Premier League Prima come titolare e poi magari quando c'è più crediti come riserva perché è sicuramente un punto fermo Jack Wilshere ragazzi è un centrocampista che sa inserirsi alla grande Fa una caterba di gol ragazzi Ha un ottimo passaggio Il tiro non è dei migliori da lontano Ma da vicino riesce a dribblare Andarsi in velocità e quindi riesce anche ad andare vicino alla porta E tirare a distanze molto ravvicinate Non è ottimale per la difesa Ma ricordo stiamo giocando con un cdc Quindi la parte difensiva la dovrà fare principalmente Fernando Wilshere ragazzi che può essere acquistata a 1200 crediti Come sapete il mio tipo di gioco è quello che prevede le ali che si inseriscono E l'attaccante che fa principalmente da boa O comunque che sia un attaccante che fa gol da dentro l'area Quindi io metto Lance a sinistra ragazzi È un'ala veramente velocissima 89 di velocità Soprattutto 82 dribbling Quindi sulla fascia ve ne andrete sempre e comunque Ma guardate lì sotto Piede debole e mossa abilità a 4 stelle Quindi crosserà benissimo anche di sinistro E soprattutto il dribbling è veramente molto elevato Ha anche un buon tiro e un buon passaggio Quindi riesce a fare anche dei cross molto interessanti Per gli attaccanti O comunque sia riesce a rientrare Visto che è destro E tirare a incrocio Perché come dico sempre Il piede invertito sulle ali È interessante anche e soprattutto per i tiri Lance ragazzi che può essere acquistato A 1000 crediti Zaha ragazzi È la rivelazione di questo campionato Con il Crystal Palace Sta facendo sfacelli E anche in FIFA È stato riconosciuto come una delle migliori ali Ai prezzi economici 87 di velocità ragazzi 83 di dribbling Passaggio e tiro però sono un po' Come dire Un po' carenti Se fosse un po' più forte anche su queste cose Sarebbe un'ala veramente da paura Vi consiglio Zaha per iniziare Perché tutte le altre ali forti Costano un pacco di sordi Ovviamente qui sulla destra potete mettere Jesus Navas Walcott Chamberlain Tutti questi qua Però ragazzi Zaha Con solo 1000 crediti Lo portate fuori Per iniziare Fidatevi che è veramente tanta tanta roba Per la punta centrale Ragazzi come sapete A me piacciono le punte di peso Ma Rondon ragazzi È veramente qualcosa di più È una punta di peso Perché è altissimo È alto un metro e novanta E soprattutto ha 80 di fisico Quindi ragazzi di testa Sono tutte quante le sue Ma oltre a ciò Abbina velocità e tecnica Infatti ha 80 di velocità 74 di dribbling E 78 di tiro Quindi con Rondon Potrete sia Andare sulle fasce Fare dei cross al centro Oppure fare dei rilanci E la prenderà di testa Oppure potete anche giocare In velocità Triangolazioni rapide E se ne può andare Direttamente in porta E sbragare tutto quanto La valutazione finale Della rosa È 79 Stile di intesa 100% Ragazzi quindi Una rosa Veramente Veramente Competitiva Per iniziare E ve la potete portare avanti Per molte stagioni E il costo totale È di 11.600 crediti Quindi diciamo Che con 12.000 crediti Riuscite a farvi Questa rosa Potentissima Della Barclays Premier League Il video finisce qui ragazzi E anche questa volta Vi chiedo Una caterba di like Fatemi vedere Che vi piace Questo tipo di video E vi porterò anche Quello per La Liga Spagnola Una cosa ci tengo A precisare ragazzi L'altra volta Abbiamo detto Vorremmo vedere anche Una partita Noi con questa rosa Il problema ragazzi È che non abbiamo Sponsor consigli di crediti Quindi i crediti Li devo fare Veramente io Li faccio tutti quanti io E ragazzi Tra impegni Di altri video Università eccetera Non ho tempo Per poter giocare Così assiduamente Su FIFA Vi prometto che Cercherò di portarvi Anche delle partite Con queste squadre Che vi faccio vedere Ma intanto Da Feryx è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti